Imparare ad essere belle e a riconoscere la propria bellezza con ironia e obiettività. Le selezioni di Miss Italia sul territorio permangono ottime incubatrici ed educatrici per le nostre favolose ragazze che sognano il mondo della moda, dello spettacolo e partecipano a queste manifestazioni per ottenere riscontri e valutazioni. Nel fantastico scenario di Villa Tuscolana Frascati, dimora storica dell'antica casa di Cicerone, si è svolta il 30 luglio l'elezione di Miss Eleganza Silvian Hitch, Lazio 2013. Ha vinto Laura Grassi con alle spalle Caterina Christopher, Giorgia Formisano e Beatrice Simmi. Vestite dagli avidi di consolidate o emergenti realtà di moda come la Maison Blanche ed Erasmo Fiorentino, sono spilate spidando i sanpietrini dell'ingresso della villa, di fronte ad una giuria composta da il presidente del Codacons, avvocato Carlo Rienzi, gli stilisti Nino Lettieri, Gianni Sapone e proprio Erasmo Fiorentino, il sindaco di Frascati Stefano Di Tommaso, la fotografa Tiziana Luxardo, le modelle di Valentino Carla Barrucce e Camilla Zecca, la Miss Sorriso Fiat 2013 Chiara Carlini, la lookmaker delle dive Daniela Mariotti, il talent scouter Riccardo Gugliani, lo chef internazionale Bruno Brunori, il personal trainer De Vip Tommaso Capezzone, il proprietario della villa tuscolana Pietro Gabrielli.